Buon pomeriggio, in questo breve video vi descriverò come utilizzare il tool di stock picking azionario di Zegos per effettuare delle soluzioni azionarie all'interno del settore tech. Andiamo quindi a scegliere il settore all'interno dell'elenco dei settori disponibili e spingiamo il tasto search. A questo punto l'outcome che viene dato è quello di 131 azioni. Queste 131 azioni noi possiamo elencarle per lo Zegos Final Score e abbiamo quindi già subito quella che è la risposta che volevamo. E cioè che il miglior titolo tech al momento utilizzando il nostro tool di stock picking è NetApp seguito da HP, Qualcomm, Oracle, Microtechnology, Baidu, Apple, Fortinet, Applied Material e Seagate. Semplicemente con questi pochissimi passaggi noi siamo riusciti ad individuare un numero di 10 titoli che sono i migliori 10 titoli per l'analisi fondamentale secondo il modello di selezione azionaria di Zegos e che quindi possono essere utilizzati per costruire un portafoglio di titoli tech. Se volete prendere in prova questo tool per un mese in prova gratuita potete scriverci a info at zegos.com